Proseguono i preparativi della mostra mercato del tartufo pregiato e dell'olio nuovo che si svolgerà a Montecchio nel comune di Vallefoglia nelle giornate del 7, 8, 14 e 15 dicembre. Una manifestazione nuova del territorio che presenta alcune particolarità tra cui il luogo scelto per allestire l'evento nelle prime due giornate in via Piola Torre a cui verrà dedicato spazio a eccellenze territoriali insieme ai due protagonisti il tartufo e olio mentre nelle due giornate successive il 14 e 15 dicembre la manifestazione assumerà l'aspetto del Natale che non ti aspetti e si sposterà in piazza della Repubblica. La manifestazione organizzata dalla Proloco di Montecchio concederà anche ampio spazio all'animazione e intrattenimento con il mago Andrew Magic Show, pizzica salentina e nel secondo fine settimana ci saranno molte attività riservate più piccoli con esibizioni musicali, laboratori e stand con arti e mestieri. Un'opportunità di conoscenza, di longevità perché i prodotti tipici locali, mangiare bene vuol dire anche campare a lungo e diciamo ci consente anche di far conoscere quell'aspetto che non è solo quello di una città industriale che punta alla piena occupazione ma far conoscere anche i prodotti locali, far conoscere il territorio. Sono diverse opportunità che da sabato mattina alle 10, il 7 qui in via Piola Torre a Montecchio di Vallefoglia, il pomeriggio alle 16.30 sarà l'inaugurazione. Questi due weekend, due opportunità molto importanti che speriamo siano fortemente apprezzate dall'opione pubblica e speriamo, contiamo anche che ci sia il tempo buono. Grazie.